Sono Francesco Remotti, sono professore merito di antropologia culturale e ho insegnato antropologia culturale un po' per tutta la vita, diciamo, all'Università di Torino e da ultimo al Dipartimento di Cultura, Politica e Società. Mi sono interessato del tema della convivenza partendo dalla critica al concetto di identità. Ecco, io ho lavorato a lungo su questo concetto, a partire dal 1996 quando avevo scritto un libro intitolato Contro l'identità e piano piano mi sono sempre più interessato, diciamo così, a concetti alternativi a quello di identità e il concetto alternativo a quello di identità credo che possa essere individuato nella somiglianza. Facciamo subito, diciamo subito una cosa lapidaria. Se noi prendiamo un soggetto, un soggetto collettivo come un noi o un soggetto individuale come io, ecco, cosa possiamo dire? Ecco, per esempio, io cosa posso dire di me stesso? Che sono identico a me stesso? Che io, Francesco Remotti, sono lo stesso Francesco Remotti di 24 ore fa o di 24 mesi fa o di 24 anni fa? Ecco, la risposta corretta mi sembra di poter dire non è questa. Non posso dire sono identico, invece dovrei dire che sono simile. tanto simile, poco simile, beh, questo dipende. È chiaro che sono abbastanza simili a Francesco Remotti di 24 ore fa, anche abbastanza ancora di 24 mesi fa, molto di meno 24 anni fa. Vuol dire cioè che le differenze aumentano e diminuiscono le somiglianze. Quindi è un gioco di somiglianze e di differenze. Somiglianza, ma evidentemente noi non somigliamo soltanto a noi stessi, somigliamo anche agli altri. Agli altri, adesso, gli altri possono essere moltissimi soggetti, non soltanto i soggetti umani, pensiamo anche agli animali, no? Noi somigliamo anche agli animali. Somigliamo anche, non so, alle piante, per esempio. Siamo pur sempre sriviventi, quindi... Quindi, ecco, cosa vuol dire quando noi diciamo che somigliamo a... Somigliamo, per esempio, a una pianta? Ecco. Vuol dire che ci sono dei tratti in comune. Ci sono dei tratti in comune. Non so, per esempio, Ibanande, che è l'etnia presso cui io ho fatto le mie ricerche in Africa, nel Congo, e ricordo, per esempio, che per loro esseri umani e gli alberi si somigliano e si somigliano fortemente. Perché? Perché hanno entrambi la stazione retta. Sono ritti. Ecco, mentre invece gli animali... Ecco, noi somigliamo di meno agli animali perché gli animali... Gli animali, ecco, loro mi facevano proprio segno così, con il braccio, no? E non hanno la stazione retta, per lo più. Sono... no? Camminano a quattro zampe, o strisciano per terra, eccetera. Partiamo di qui, allora, dal concetto di somiglianza. Somiglianza cosa vuol dire? Somiglianza vuol dire condividere qualcosa. Significa che se noi prendiamo un soggetto, io, noi, non ha importanza, e lo confrontiamo con altri soggetti, ecco, noi diciamo che somiglia, che quel soggetto somiglia ad un altro soggetto o ad altri soggetti, nella misura in cui condivide qualcosa. Ecco, per i banande, esseri umani e alberi si somigliano perché condividono questo aspetto qua, l'aspetto, cioè, dell'essere ritti. Ecco. Somiglianza, quindi, vuol dire condivisione. Allora, adesso avviciniamoci di più agli esseri umani in quanto tali. Lasciamo stare le piante e gli animali, anche se sarebbe interessante sviluppare il tema della convivenza. Magari, chissà, poi verso la fine del mio discorso arriveremo di nuovo a questo, ma rimettiamoci per ora alla convivenza, diciamo così, tra gli esseri umani. Ecco, la tesi che io vorrei sostenere è la seguente, che la convivenza è fondata sulle somiglianze. Cioè, perché è fondata sulle somiglianze? In che senso è fondata sulle somiglianze? È fondata sulle somiglianze la convivenza perché anche la convivenza come le somiglianze vuol dire che si condivide qualcosa. ecco, se noi pensiamo alla convivenza, non so, pensiamo, prendiamo per esempio due persone che convivono, magari sono coniugi oppure non sono coniugi, sono semplicemente compagni, come si usa dire, ma non ha importanza. Convivono, cosa vuol dire allora che convivono? Condividono. Tanto per cominciare condividono uno spazio, una casa, condividono le attività che si svolgono normalmente in quella casa, far da mangiare, per esempio, magari condividono la stanza da letto e così via, come è normale pensare, eccetera. Ecco, convivere. Convivere vuol dire appunto che si condividono, e qui facciamo un passo ulteriore, si condividono delle attività, ecco, vorrei dire vitali, ecco perché convivenza, convivenza, cioè si condividono attività vitali, attività che hanno a che fare con la vita. In italiano, però, noi abbiamo un altro termine, oltre a quello di convivenza, e quindi il termine è coesistenza, no? E quindi è interessante, a mio modo di vedere, approfondire un po' la, in apparenza lieve, differenza che c'è tra coesistenza e convivenza. Talvolta noi usiamo questi due termini come se fossero sinonimi, ma non è esattamente così. Se noi riprendiamo di nuovo l'esempio di prima, cioè di quelle due persone che coabitano e che convivono, non credo che noi diciamo coesistono. Quando è che si usa il verbo coesistere? Noi usiamo il termine coesistere quando soprattutto ci riferiamo a delle entità di ordine materiale. Ecco, degli oggetti coesistono entro un determinato spazio. Però è anche vero che noi usiamo il termine coesistenza per indicare anche il coesistere di esseri umani. E qui diventa interessante, diventa importante la distinzione tra coesistere e convivere. Ho detto prima che la convivenza è la condivisione di attività vitali. Coesistenza, allora, che cos'è? Anche quella è condivisione. Anche la coesistenza è condivisione. Basta quel co iniziale per far capire che c'è di mezzo una condivisione. Coesistenza vuol dire tanto per cominciare che si condivide uno spazio. uno spazio. Ecco, condividere uno spazio ma la coesistenza è diversa dalla convivenza perché oltre a condividere uno spazio e magari qualche altra cosa che adesso magari illustreremo, la coesistenza però pone un principio di separazione, di divisione che invece non c'è o c'è molto di meno nella convivenza. Cioè, se noi prendiamo due gruppi, due gruppi, diciamo così, due gruppi etnici, tanto per usare termini comprensibili, un gruppo A e un gruppo B, quando è che noi diciamo che coesistono? coesistono e vuol dire che coesistono entro un determinato territorio, può essere una regione, può essere una città, può essere un quartiere, dipende, può essere una nazione, eccetera, ma il principio fondamentale della coesistenza è che non ci si intralcia a vicenda. Vuol dire che ognuno di questi due gruppi gode, diciamo così, del proprio spazio, svolge le proprie attività e c'è la minore interferenza possibile tra i due gruppi. possono condividere, sì, per esempio possono condividere, ecco, due gruppi coesistenti, possiamo dire che possono, anzi, è fondamentale, che condividano un valore, che è il valore del riconoscimento, del rispetto, il valore potremmo anche aggiungere della tolleranza. Immaginiamo questi due gruppi etnici coesistono e sono in grado di coesistere nella misura in cui si rispettano una vicenda, nella misura in cui riconoscono ognuno di essi nei confronti dell'altro riconosce, come dire, il diritto dell'altro ad esistere, coesistere, ecco, significa che c'è alla base un profondo senso di, ecco, del diritto ad esistere. Coesistenza si basa su questo importantissimo principio che prende anche l'aspetto dalla tolleranza, no? Diritto ad esistere. Noi, gruppo A, riconosciamo a voi, gruppo B, il diritto ad esistere, ma aggiungiamo ad esistere con le vostre differenze, no? E, ovviamente, la coesistenza significa che che ci sono delle differenze di mezzo e queste differenze vengono riconosciute, sono chiare, che so, noi mangiamo certi tipi di cibo, voi invece mangiate altri tipi di cibo, noi mangiamo il maiale, invece a voi il maiale fa schifo, per esempio, e così via. noi abbiamo determinati rituali, voi avete altri rituali, e così via. Ecco, riconoscere il diritto ad esistere significa anche aggiungere questo aspetto che dicevo, cioè questo atteggiamento che dicevo, che è quello della tolleranza. Noi sappiamo che il pensiero filosofico e politico europeo nella storia dell'Europa moderna ha sviluppato riflessioni estremamente importanti sul concetto di tolleranza, pensiamo a John Locke, pensiamo a Voltaire, no, la tolleranza, la tolleranza è diventata un principio assolutamente irrinunciabile, senza tolleranza non ci potrebbe essere coesistenza. Toleranza quindi è l'atteggiamento che garantisce la coesistenza, la coesistenza aggiungiamo pure pacifica. Parentesi, vorrei ricordare che coesistenza era un termine che si usava che si usava quando c'erano decenni fa il mondo era dominato da due grandi potenze mondiali, gli Stati Uniti da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra. Si parlava di coesistenza, cioè il principio era questo, cioè che riconoscere il diritto gli uni nei confronti dell'altro ad esistere in questo mondo con le loro sfere di influenza e così via. E certamente il principio della tolleranza insomma era quindi tolleranza dicevo è un po' il fondamento il fondamento della coesistenza e qualcuno potrebbe dire giustamente possiamo fermarci qui, potremmo dire che siamo molto d'accordo che la coesistenza è un principio talmente irrinunciabile che se riusciamo a raggiungere appunto questo livello di rapporti, questo tipo di rapporti tra gli esseri umani tra i gruppi tra le collettività tra le società e direi che è un'ottima cosa solo che ecco c'è un punto che ecco quel grande poeta tedesco che era Goethe nei primi decenni dell'Ottocento se ne uscì con una con una frase a proposito della tolleranza una frase che ci fa riflettere molto e Goethe diceva che tollerare è un po' come insultare abbiamo parlato così bene della tolleranza fino adesso che adesso come dire tirare fuori Goethe il quale ci dice che tollerare è un po' come insultare rischiamo di mandare all'aria tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso no non lo mandiamo all'aria ma come dire Goethe ci stimola a prendere in considerazione i limiti i limiti della tolleranza e quindi i limiti della coesistenza i limiti della politica della coesistenza allora partiamo di nuovo da quello che diceva Goethe perché Goethe diceva che tollerare è un po' come insultare perché Goethe aveva in mente il significato etimologico di tollerare e tollerare vuol dire sopportare quindi immaginiamo allora un gruppo A e un gruppo B immaginiamo che il gruppo A appunto manifesti atteggiamento di tolleranza nei confronti del gruppo B vuol dire che sopporta il gruppo B proviamo a metterci dal punto di vista di chi è tollerato abbiamo la sensazione non tanto gradevole per non dire sgradevole del tutto che noi sì è vero ci lasciano in pace ma 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 ci sopportano riconoscono che noi abbiamo i nostri le nostre differenze siano esse culturali o siano esse che so la pelle per esempio il colore della pelle ci lasciano in pace però 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 ci sopportano non è bello sentirsi tollerati non è bello sentirsi sopportati oltretutto notiamo una cosa che tollerare vuol dire sempre mettersi su un piano superiore rispetto a chi viene tollerato chi tollera in fondo dimostra o vuole dimostrare di essere superiore più intelligente più illuminato pensate alla connessione pensiamo alla connessione tra il tema della tolleranza è l'illuminismo europeo noi siamo illuminati noi dobbiamo tollerare proprio perché siamo illuminati ecco e l'illuminismo vuol dire questo vuol dire riconoscere le differenze altrui tollerarle eccetera ecco c'è questo senso quindi di superiorità c'è questa sorta di gerarchia ecco che fa sì che il rapporto tra A e B rischia qualcosa e poi c'è un altro rischio che si trova nella tolleranza e il rischio è che la tolleranza se ci pensiamo bene è a termine è a termine rischia di essere a termine perché 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 è una volontà noi decidiamo di tollerare noi A decidiamo di tollerare B ma quella decisione può essere revocata per tanti motivi perché B magari esagera ai nostri occhi esagera o perché noi non siamo più in grado di perché interviene una crisi economica per esempio interviene una crisi economica ecco che allora come dire non ci sentiamo più di sopportare la presenza degli altri ecco la coesistenza rischia di venire meno e se viene meno se viene meno la la tolleranza appunto viene meno anche la coesistenza e se viene meno la coesistenza cosa succede ecco c'è uno scivolare uno scivolare verso gradini diciamo così sempre più inquietanti se non c'è più tolleranza non c'è più coesistenza beh si fa presto ad arrivare al respingimento se la coesistenza deve avere termine noi faremo di tutto per spingere sospingere respingere gli altri al di là fuori in un qualche fuori vorrei far notare che come dire qui si fa presto a passare a scivolare quasi senza accorgercene da da quest'idea del respingimento che badiamo bene è è un fare fuori respingere vuol dire proprio fare in modo che gli altri non entrino o se entrano se sono dentro a un determinato territorio il respingimento è portarli fuori sospingerli fuori fuori da un territorio fare fuori vuol dire anche un'altra cosa vuol dire spingerli fuori dalla vita ecco sono gradini su cui si può si rischia di scivolare sempre di più facciamo marcia indietro allora ritorniamo ritorniamo il tema della convivenza e siamo partiti il nodo se ci pensiamo bene il nodo è quello delle differenze noi A e gli altri gruppi il gruppo B ci sono delle differenze tra A e B ecco prendere la strada della convivenza si può? certo certo che si può certo che si può e noi abbiamo le società spesso tentano la strada della convivenza e come la mettiamo con le differenze perché abbiamo prima parlato delle somiglianze la convivenza si basa sulle somiglianze certo sullo riconoscimento delle somiglianze molto più che non la coesistenza la convivenza vuol dire che noi riconosciamo che ci sono delle somiglianze che ci legano noi A e voi B ma ci sono sempre di mezzo le differenze bene la politica della convivenza cosa vuol dire che vuol dire che queste differenze attenzione non vengono annullate e neppure vengono tollerate vengono invece riconosciute e vengono valorizzate ecco valorizzare il trucco diciamo così la grande trovata della convivenza in fondo è questo cioè la valorizzazione delle differenze certo il problema è qualsiasi differenza eh no sarebbe illusorio dire qualsiasi differenza potrebbero esserci delle differenze come dire insopportabili incompatibili però una politica della convivenza significa che ci si mette attorno a un tavolo ci si mette che so in un'aula di un parlamento ci si mette sotto il baobab e e si affronta e si affrontano i problemi delle differenze e può darsi anche che conoscere meglio le differenze capire perché gli altri si comportano così e in maniera diversa da noi può darsi anche che questa conoscenza ci faccia capire che queste differenze siano più compatibili di quanto noi pensassimo può darsi anche invece che no non siano compatibili e allora e allora però il discorso è questo cioè non ci saranno soltanto quelle differenze b si presenterà ai nostri occhi anche con altri aspetti altre differenze ancora ecco la convivenza è cercare di sfruttare e uso appositamente questo termine sfruttare le differenze perché diventino risorse da condividere a vantaggio di tutti io mi sono occupato di modelli di convivenza specialmente nell'Africa diciamo nell'Africa tradizionale nell'Africa precoloniale eccetera e ho avuto modo di studiare diversi esempi diversi casi di convivenza convivenza per esempio tra gruppi immaginiamo una comunità di coltivatori una comunità di pastori e tutti sappiamo quanto sia difficile nei contesti tradizionali africani per esempio appunto quanto sia difficile far convivere pastori da una parte e coltivatori dall'altra ma tanti esempi in Africa noi troviamo di 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 politiche di convivenza che consistono in questo cioè nell'ingegnarsi perché queste differenze differenze economiche ma non solo attività economiche differenze nel modo di 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 sfruttare le risorse della terra queste differenze possono essere rese non solo compatibili tra di loro ma vantaggiose reciprocamente ecco il grande la grande trovata diciamo così del delle politiche della convivenza è davvero fare in modo di sfruttare le differenze in modo che diventino risorse non solo per un gruppo ma diventino risorse anche per l'altro gruppo un caso un caso molto interessante era quello studiato da un grande antropologo Siegfried Nadel nella Nigeria settentrionale località Kutigi negli anni trenta del novecento lui lì aveva trovato quattro comunità non due ben quattro comunità che da secoli da secoli avevano realizzato quello che Nadel aveva chiamato un vero e proprio modello di simbiosi addirittura lui usava il termine biologico di simbiosi che poi vuol dire convivenza ovviamente vivere insieme con un gruppo era di pastori un altro gruppo era di coltivatori un altro gruppo era di artigiani e un altro gruppo di commercianti uno di questi gruppi addirittura era già islamizzato queste quattro comunità appunto avevano realizzato una forma di diverse forme di cooperazione di collaborazione tra di loro mi limito a indicare i tre livelli fondamentali le tre forme fondamentali di cooperazione che sono uno la cooperazione a livello economico quindi scambio di beni e servizi approfittare del fatto che ognuno di queste comunità aveva la sua specializzazione economica perché questo andasse a vantaggio di tutti di tutte le comunità due lo scambio matrimoniale queste quattro comunità avevano deciso di adottare la regola della esogamia vale a dire che quando ci si sposava ognuno ogni membro della comunità ha per esempio se voleva sposarsi doveva cercare il coniuge fuori dalla propria comunità e questo valeva ovviamente per tutti i gruppi e questo significava cementare collegare questi gruppi altro livello ancora che mi sembra essere una cosa interessantissima per noi e cioè la cooperazione a livello rituale e religioso cioè questi quattro gruppi mantenevano ognuno di essi manteneva la propria religione uno di questi addirittura era un gruppo islamizzato ognuno manteneva la propria religione e le proprie credenze ma metteva a disposizione degli altri le proprie competenze rituali quindi non so c'era il gruppo per esempio che aveva la competenza rituale sul tempo la pioggia ecco e quel gruppo era incaricato ecco di favorire la pioggia a vantaggio ovviamente di tutti un altro gruppo invece aveva la caratteristica di occuparsi dei rituali di iniziazione ecco e questo gruppo appunto svolgeva esattamente questa funzione la cosa fondamentale da apprendere da questo da questo caso ma altri se ne potrebbero presentare o studiare ma la cosa che dicevo importante è questa e cioè non si tratta di una politica di fusione non si tratta di una politica di integrazione noi usiamo molto il termine integrazione qui si tratta di una vera e propria politica di convivenza dove il tema fondamentale il principio fondamentale è le differenze anziché diventare degli ostacoli delle barriere diventano delle risorse da mettere da mettere in comune ecco dicevo questo è un modello altri se ne potrebbero presentare e io penso che studiare questi modelli di convivenza io ho accennato all'Africa ma se ne possono trovare ovviamente nella storia oltre che nell'etnologia nell'etnografia eccetera anche in altre parti del mondo eccetera io credo che sia fondamentale studiare questi modelli diversi di convivenza per rendersi conto di una cosa che la convivenza non nasce spontaneamente non è dovuta semplicemente a un volersi bene la convivenza è un'arte la convivenza è una cultura è un sapere è uno studio studiare insieme quali possono essere le soluzioni per poter appunto convivere e convivere e affrontare insieme il futuro abbiamo parlato finora di convivenza tra esseri umani tra gruppi sociali diversi eccetera però all'inizio di questa conversazione io avevo accennato anche a proposito di somiglianze anche alla somiglianza tra tra noi e gli altri esseri viventi non solo gli animali ma le piante eccetera fra l'altro vorrei far notare che questi anni stanno venendo fuori degli studi interessantissimi che riguardano non soltanto la condivisione del patrimonio genetico studiare queste cose è veramente una cosa è una cosa meravigliosa perché fa capire come siamo legati diciamo così a tutti gli altri esseri viventi in un modo in un modo o nell'altro ma in questi anni si sta sviluppando anche sempre di più degli studi non solo sull'intelligenza degli animali ma anche l'intelligenza delle piante cioè allora il tema della somiglianza sta diventando sempre di più un tema scientificamente fondato cioè quindi non qualcosa di come dire misticheggiante o qualcosa di impressionistico ma qualcosa di scientificamente fondato ecco però io qui vorrei vorrei ecco questo è un accenno diciamo così agli sviluppi della scienza contemporanea eccetera io qui però vorrei invece tornare tornare indietro tornare cioè a società che di solito sono state studiate dagli antropologi società un po' fuori mano società che magari molte delle quali non esistono non esistono più società però che a proposito della convivenza avevano avevano non solo teorizzato la somiglianza tra noi e certe specie di animali tra noi e certe specie di piante tra noi e i fenomeni della natura pensiamo al totemismo ma avevano anche praticato oltre che teorizzato la convivenza con la natura ecco io credo vorrei terminare questa mia conversazione sulla convivenza tra gli esseri umani che è quella certamente che ci sta a cuore in primo luogo dicendo una cosa che oserei dire è la tesi di fondo di tutta quanta la mia conversazione ed è la seguente se non si realizza se non si realizzano forme concrete convinte estese di convivenza con la natura certamente non riusciamo a realizzare la convivenza tra gli esseri umani perché perché la convivenza con la natura significa significa rispettare la natura significa non depredare la natura come finora abbiamo fatto perché depredare la natura e esaurire le risorse naturali significa poi non essere in grado assolutamente di convivere tra gli esseri umani in un mondo in cui le risorse naturali stanno paurosamente venendo meno e noi siamo certamente per una strada dove questi fenomeni stanno succedendo e se le risorse naturali appunto vengono meno certamente certamente la convivenza tra gli esseri umani diventa praticamente impossibile quindi il termino appunto la mia conversazione affermando appunto che una condizione indispensabile assolutamente fondamentale per realizzare o tentare di realizzare una convivenza tra gli esseri umani è di realizzare in primo luogo la convivenza con la natura di realizzare in primo luogo appunto di realizzare